Beh, sì, diciamo che ci volevano primi per stasera, ma quello che conta è sempre il risultato, perché nella Juventus, in un modo o nell'altro, vincere in un modo o nell'altro è l'unica cosa che conta. Ed abbiamo vinto e ci godiamo per stasera il primo posto. Ho letto commenti del tipo di persone che troppi minuti di recupero, la Juventus non meritava, volevano appunto far vincere la Juventus. Ragazzi, al 96esimo Cambiasso ci ha regalato il primo posto momentaneo. Sono tre anni che aspettavamo di goderci questo momento. Io me lo sto assaporando e sto godendo bene. Non mi importa cosa scriverete sotto nei commenti, ragazzi. Quello che mi importa è che comunque alla fine abbiamo vinto. Attenzione, non sto dicendo che abbiamo meritato, ma abbiamo vinto. È solo questo quello che conta. Per me! Poi, siete liberi di dire quello che volete. Ma ditelo con educazione, però, eh? Alla fine è sempre una martire di calcio, no? Non è che stiamo parlando di qualcosa che va al di là.